Buonasera a tutti! Come stai? Molto bene, grazie. Ma qui vedo una corona! Sì! Ma avrai per caso vincito? Eh, è successo! È successo! Tanto c'è via vai di persone! Allora, come ti senti? Dimmi! Sono felice, non me l'aspettavo e più che per la vincita sono anche i commenti positivi delle persone comunque che diciamo che mi rendono felice, quindi al di là di tutto sono contenta, molto contenta! Cosa ti dà questa vittoria per il futuro? Non lo so, è tutto un interrogativo, un punto di domanda e speriamo qualcosa di bello, insomma. Grande! Da domani? Da domani? Da domani cosa si farà? Da domani, cosa farà? Non lo so! Continuerò! A Venezia e a Quattobici, sicuro! Eh? A Quattobici a Venezia, di sicuro! Di sicuro, però di sicuro non posso mancare! Ci saluti, la CCSWI! CCSWI! Buona serata! Grazie mille! Grazie a voi, grazie a tutti quanti, voglio salutare e ringraziare tutti, davvero sono contentissima! Grazie mille!